E ciao a tutti ragazzi, io sono Eletro16 e oggi siamo nella Minecraft SCP in compagnia del signor Ticolmonster Bellissimo, che si è bloccato, what? Si è bloccato, si era bloccato Allora, nello scorso episodio intanto avevamo visto SCP 035 Ovvero la maschera, che ce l'ho qua, 6, eccola qua Che però l'abbiamo sperimentato chissà quanto, questa non la possiamo indossare Cioè, vabbè intanto abbiamo ancora queste, come le possiamo chiamarli, oggetti Che c'è queste pale che si chiamano spawn e i plate fragment Che non ho la più palida idea di cosa siano o cosa servono Però vabbè, direi di andare dall'SCP di oggi Che oggi voglio vedere, sapete quale? Quello che secondo me è il cristallo contagioso Ovvero quello col granito Sono molto curioso di quell'SCP Intanto attenzione che qua c'è l'old man Qua le liane si sono espansi Sto appunto per dire Che le liane si sono espansi Ok, dov'è il vecchio? Mi sa che era di là Da queste parti è il vecchio Eccolo lì Fermo immobile che ci aspetta Allora, oggi come ho già detto andremo a vedere l'SCP col granito Che sono molto curioso di cosa ci sia all'interno Secondo me c'è il cristallo contagioso Sono sicuro al 100% che è il cristallo contagioso Secondo chi sarà se non è il cristallo contagioso Non saprei Questa è la cella Spawnata molto strana Con questo cubo di granito Inoltre qua c'è un altro pezzo Mi sa che è fatta un po' a caso Vabbè, un po' tutte le celle sono fatte a caso Stavo dicendo ma che cazzo Va bene Allora, dobbiamo salire sopra Il problema è che ci servono dei blocchi Per salire Se no come saliamo? Quindi spacchiamo un po' qua Ecco qua Ok, abbiamo sei blocchi Sette, otto Va bene Penso che ce la possiamo fare Faccio una scaletta Ok, ce l'abbiamo fatta Abbiamo la porta d'ingresso Che dobbiamo ovviamente spaccare E c'è qualcosa di strano L'SCP intanto è Keter E ci sono questi C'è un tizio Ci sono due tizio Tre tizi E ci siamo anche già entrati A vedere l'SCP Che appunto è SCP-409 Ovvero il cristallo contagioso Ah, posso scambiare con questo Vediamo che scambiano Scambia Indistruttibili Oh vabbè Questo è un brom Scambiano per uno stack Un coso potenziale Su qua che cosa c'è? Delle gas mask Che posso indossare E se le indosso Mi danno velocità Le prenderei Un po' tutte Intanto si è bagato Ok, la mod di The Moon Slayer Molto bella Si è bagato Micro Ok, allora Queste le mettiamo Nell'inventario Il giubbotto antiproietto Li togliavolo Se no si consuma Ci abbiamo quattro E sono buone Queste maschere Antigas Che poi ricordo Che c'era anche l'SCP L'avevamo pure visto Che è il 1499 Se non mi sbaglio Si l'avevamo visto Molto tempo fa Un annetto fa Mi sa Non so se è cambiato Ma mi sa di no Comunque Allora L'SCP 409 È questo oggetto qua È un cristallo E praticamente Voi direte Che succede Che cos'è Allora Questo SCP è molto simile Al ghiaccio rosso Ma questi qua Scambiano la stessa cosa Si Mi sembra Mi pare di si Eh no Questo scambia un altro Maledizione Della Della sperazione Della sperazione Che non ho La bianche Minima idea Di cosa sia Indistruttività Aspetto di fuoco Flagello Degli antropodi Eh Scambiano Brom Diversi Potremmo anche Averne uno Comunque Il cristallo Come ho già detto È simile Al ghiaccio rosso Ovvero Che qualsiasi cosa Lui tocca Pur essere vivente La cristallizzerà Col passare Del tempo Tipo Se noi tocchiamo Il cristallo Lui Lui avrà tipo Cioè Tipo un virus Lui Ci contagerà Una Una Maledizione E dovunque andiamo Noi ce l'avremmo E alla fine Noi diventiamo Tutti di ghiaccio Diventiamo Un mostro Una persona Di ghiaccio Fatta di ghiaccio E praticamente Come dire Esplodiamo E quando Esplodiamo Facciamo cadere Dei pezzetti Di ghiaccio Questo effetto Lo fa Con tutti i blocchi Anche con i blocchi Però L'unico blocco Con cui Non può Cristallizzare È il granito È l'unico blocco Questo qua Questo SCP L'avevamo anche visto Nella sincero Concreto Preparato Con camicia Qua ci sono anche Dei blocchi Blof Of SCP 409 Che secondo me Questi qua Sono dei blocchi Quando ti contagiano Non mi pare Facciano nulla Si possono spaccare A mano Comunque Come ho già detto Questo SCP Ha bisogno Di tempo Per funzionare Anzi Anzi no Questi li prendo Che magari Servono E l'SGP Adesso Prendiamo l'SGP Che l'abbiamo preso Ce l'abbiamo Si chiama SCP 409 Secondo me Se lo tengo in mano Succede quello che deve succedere Io Per sicurezza Prendo questo blocco Con La Il granito Levigato Con L'espositore E me lo metto qua Direi raga Proviamo nella cena Tanto questi qua Non commerciano nulla Di Chissà quanto buono Ok Allora l'ho toccato Sto anche Cliccando È un click Un po' strano Cioè Se notate È un po' strano Come clicca Ecco Ha fatto qualcosa Va bene Come ho già detto Raga Per cristallizzare Sto qua Ci impiega Molto tempo Può anche Impiegare ore Che ne sapete Perché Da quel che avevo letto Ci metteva Tre ore Per cristallizzare Io Raga Usciamo Non Non sembra fare nulla Intanto Raga Direi Andiamo a casa Perché voglio Prendermi Quel brom Molto buono Che aveva commerciato Uno di quei tizi Tanto noi Di pepite Ce ne dovremmo Avere A go go Non so quante Ce ne abbiamo Però almeno 64 ce ne dovremmo avere Il cristallo Comunque non sta facendo nulla Secondo me Questo qua Prima ci rallenta E poi Qua intanto Prima ci rallenta E poi ci da Wither E quando moriamo Diventiamo Un coso così Anzi Anzi raga Prima Voglio fare una cosa Se io lo butto Non succede nulla Aspetta Spacchiamo un po' sotto No non è successo nulla A quanto pare Raga Ehm Tanto è apparso Uno strano messaggio In chat Appena ho piazzato Il blocco La visuale Si è inarcata Ma tipo Tantissimo Cioè ci vedo Di più con Raga Ma quanto Ha cristallizzato Cioè non posso Manco muovermi Vedete io Mi sto muovendo Vedete Guardate Ora provo a muovermi Vedete raga Non riesco A fare proprio Nulla Non Non Manco ho capito Dove sono Ok qua vedo Ok vai Ah raga Ehm È molto Forte Se ci ha cristallizzato Manco riesco Ad aprire La botola Ah vai 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 Ok Madonna La vedo vicinissima Quella lampada No Ok Raga Non si capisce Nulla No 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 Raga È una roba Assurda Raga Ho anche Un effetto Di winter Mi è arrivato Solo adesso Questo qua È forte Raga Mettiamcelo Nell'inventario Veloce Ah Aiuto Non si capisce Più nulla Non riesco Più Manco Orientarmi Aiuto Andiamo Usciamo Ok Siamo morti Raga Siamo morti Intanto Aspettate un attimo Prendiamo tutte ste pepe Eh ce ne avevo A voglia Quante ce ne avevo Prendiamoci le spawn Che io avevo visto Che qua Posso Ok raga Allora Ok Ne possiamo fare Quanti Non Ne manca Ne servono Altri Mannaggia Mannaggia Intanto Allora Il cristallo Dove lo poggio Qua Dai forse Su Questa La La tengo E le maschere Dove le metto Vabbè Aspettate Raga Adesso Vediamo Che è successo Che secondo me È successo Qualcosa Ok raga Allora Ok Ne ero Certo Raga Allora Mi sono fermato Un attimo Ed è spuntato Questo blocco Di Di scp409 Raga Allora Per oggi Abbiamo anche Sperimentato Tutto Perché Cioè Questo era Quello Che poteva Fare Lasciate Un bel Like Iscrivetevi E da me Ovviamente Detro Senci È tutto Ciao 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 Grazie.